Qualcuno mi spiega perchè c'è il mio prof nel menù Ragazzi oggi siamo su potato thriller La finisci di piangere? Vabbè iniziamo perchè questo ho già messo i coglioni Che cazzo è sta roba? Ah è il nuovo film Marvel Skip Non mi interessa quello che stai dicendo Tanto non capisco una sega Ole abbiamo iniziato dove cazzo siamo? Bellissimo direttamente da venerdì 13 sta roba C'ho anche la torcia perfetto Se no non vedevo una minchia Può entrare qui? Mi sa di no Belli quadri ma che è un mento quella roba Posso anche saltare Minchia salta più in alto Sì rompi la legge della fisica Ho appena scoperto di essere Superman Quindi direi che possiamo andare avanti Permesso fuori pioveva potete ospitarmi Mi bastava anche un no eh Wow Mi dovevo cagare sotto zio? Scusa adesso lo faccio Cazzo è quella roba Salve è casa sua Questo posso restare Ma sti cazzi E gli hai visto anche tu un pisello che camminava Come into my room Arrivo subito signorina Sa come mi chiamano? Il super saian dei letti Dove cazzo è? Mi aspettavo una bella figa no sta roba? Posso toccarvi? How dare you go into my wife's room? No 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 scusi non volevo Non volevo me ne vado subito guarda Regà comunque i comandi fanno vomitare Comunque senza offesa eh Regà il mio prof si è incazzato Se mi fa del male io la spello Avete capito? Eh vedi come ha capito Regà è tutto a buio Però pagate le bullette Qua dentro Non si vede un cazzo La mamma ti ha mai detto che non si salta sui letti? Brutta maledicata Scendi Tutto a posto signore ci ho pensato io Ma lì ci sono dei numeri che devo comprare un codice eh Dove cazzo lo prendo il codice? Regà se nessuno sgancia il codice Io sgancio il pisello fuori eh Lo sbatto in faccia I love you in che senso? Ragazzi no c'è un malinteso io sono un uomo Qualca puttana Questa veramente non me l'aspettavo Ti hanno legato o lo stai piando in culo? Gambe sexy Non è una figa E la madonna che faccarate Cioè io entro in casa delle persone e questa è l'accoglienza ma vaffanculo Poteto thriller Sì ma abbiamo iniziato mezz'ora fa il gioco perché lo dice solo ora? Pronto pizzeria? No non facciamo ordini stasera Si stanno parlando da due ore basta Fatemi giocare voglio picchiare qualcuno Perché stai guardando un porno di coniglio? No 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 continuare le tue ricerche no Hey Dexter Dexter che cazzo ci fai qui? Che cazzo è sto marmocchio? Perché sto impersonando lui? Che cazzo è successo? Non ho capito un cazzo della trama di questo gioco Però stupro i conigli Posso attaccare? Oh figo E' un ascoltato sul fatto che voglio picchiare le persone Tato stronzo E' pure a te puttana Vado stealth Sembra che sto per tirare uno schiaffo dietro il culo a qualcuno Ma sto cazzo sto giocando? Attenzione This is my newest invention Bella Helipier Non mi dire che è un elicottero sta roba Miglior gioco che ho mai portato nel mio canale a mani basso Oh siamo tornati qua Scopiamo ora Chi cazzo vuoi tu? C'è un pervertito che mi guarda dalla finestra Che io è meglio si scappa Cazzo è successo Ma basta sono un uomo Posso uscire per favore? Attenzione non dovresti soppassare questa porta Perché se esci Crasherà il gioco Va bene non esco allora Ma cosa cazzo sta succedendo? Cambiata la luce della mia torcia Adesso è rossa Non c'è più il pervertito alla finestra Almeno questo Ah però è qui Il piacere vuole stringere la mano È stretta di amicizia? No Va bene come vuole Qua si è aperto Ok segarsi bro Però mi sembra che ti sei segato un po' troppo Devi chiudere almeno la porta Se no la mamma ti vede Ti acchiappo io Che fai il kebab? Vabbè io non ti disturbo eh Buon bagno Ragazzi c'è qualcuno che canta dall'altra parte di questa porta E aperta questa porta Ma no ma basta Apri stronzo Cosa cazzo è successo? Go to bed Ma ci stanno 27 casse Dov'è sto letto? Penso che dopo aver giocato a sta roba Avrò i problemi neurali Apri la porta coglione Ti voglio spattere il pisello in faccia Lo faccio dai chi comanda qua Ho aperto Arrivo strozzo Grazie Salta nel letto se vuoi Agli ordini capitano Ma mamma ti ha detto che non si stuporano le persone alle spalle Sì bye bye La prossima volta che ci vediamo mi devi mostrare te Perché sono un uomo in mutande? Che cazzo ho mangiato ieri al Mac? Aiuto Le bicchiere della coca cola al vecchio Me l'hanno drogato Ho aperto il cesso Permesso C'era un tizio che si stava segando prima Non c'è più Perfetto Ora è il mio turno Sapete andate a fanculo Sti cazzi Io oltre passo Non succede un cazzo No 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 Andate a fanculo In tutto questo stasera volevo solo dormire Oh cosa state facendo voi due? Oh 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 E che non mi avete invitato? Aspetta che arrivo a dare supporto Oh sei tornato Quante pippe ti fai al giorno? Venti? I love you Oh ora che me l'ha detto una donna Finalmente posso sentirmi eccitato Oh scendi dalle stelle Fore del cielo Porca puttana Stavo cantando Scostumato che non fai cantare gli ospiti a casa Ragazzi direi che questo video può finire qua Ehi è finito il video Cazzo piangi Fatemi sapere se volete altri giochi intelligenti come questo Mentre lasciate un bel mi piace Commentate E come sempre noi ci rivediamo ad un prossimo video Oddio ragazzi Poi mi metto a piangere con lui Che cazzo devo fare?